Presidente qui è tutto pronto, i farmaci sono stati caricati, ora vi attendo un lungo viaggio, chi partirà e quale sarà il percorso? Dunque partiremo io e un consigliere, Belli Moreno, il percorso è attraverso l'Austria, in pratica la Repubblica Ceca e arriveremo in Polonia a Zamosch. A Zamosch ci aspetta il Rotary di Zamosch che è gemellato con Urbino e quindi faremo la consegna, arriveremo mercoledì mattinata e appunto consegneremo i farmaci che si è aggiunto anche il Rotary Conad e Dancona, io penso che ormai avremo superato i 40 mila euro di medicinali all'interno, veramente sono tanti. E poi il ritorno per quando è previsto? Il ritorno è il tempo di riportarsi, è la giornata di mercoledì e pensiamo di viaggiare il giovedì ed essere qui venerdì al massimo sabato mattina. La realtà del dono oltre ai vari Rotary Rossini di Pesaro, Urbino, Conero, anche Aset ha fatto tanto, i cittadini soprattutto che hanno donato tramite le farmacie comunali, Aset ha messo altrettanto il doppio. C'è la ditta Schnell, un'associazione, il piccolo Alessandro, la farmacia Vannucci, poi si è raccolto veramente sempre medicinali e non medicinali campioni ma medicinali presi per quello che serviva, quello che ci avevano richiesto. Sono tutti destinati all'Ucraina? Sì, i medicinali sono tutti destinati all'Ucraina che il Rotary si impegna attraverso il volontariato e i corridoi immunitari a far arrivare direttamente in pratica in Ucraina. Questa è la Fano che ci piace, il territorio che ci piace, ovviamente noi ci fermiamo qua, stiamo già organizzandoci sia per andare in aiuto, incontro a quelli che sono già presenti nella nostra città, ma abbiamo raccolto anche altri inviti di aiuto a cominciare dalle nostre città con cui abbiamo rapporti anche di gemellaggio che stanno ospitando migliaia di profughi e quindi dobbiamo essere una grande comunità. E quindi in questo caso si parla di raccolte fondi o prodotti? Sì, noi raccolte fondi li facciamo sempre con i canali nazionali perché le risorse vanno gestite con serietà. In questo caso raccolta di alimenti a lunga scadenza, pannellini, perché qui parliamo di donne e bambini, quindi anche per l'igiene personale, per i disinfettanti, insomma quelle cose necessarie nell'immediato. Ovviamente come sempre facciamo, cerchiamo di creare una regia e quindi daremo indicazioni per chi vorrà collaborare con noi, onde evitare di sprecare energie, di prendere cose che poi non servono e di sperderle.